Il cinquantennale della provincia di Serni è stato l'argomento della puntata di ingresso libero condotta da Enzo Di Gaetano con le testimonianze di chi nel 1970 fu tra i protagonisti del raggiungimento di quel traguardo come Enrico Santoro all'epoca sindaco. Santoro ha parlato dell'entusiasmo e del lavoro che ha animato uomini e donne allora. I giovani vivevano questo momento però in maniera non organizzata, non avevano la sensazione di cosa significasse l'organizzazione dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'attività burocratica, anche perché le distanze tra Isernia e Campobasso, capoluogo di provincia, per quella che era la viabilità di quel tempo, erano distanze non facilmente percorribili. Era stata ricostruita parte della ferrovia Isernia-Campobasso, non ancora in funzione perfettamente quella Isernia-Carpinone-Castel di Sancro. La viabilità era quella dell'anteguerra. In studio il presidente della provincia Alfredo Ricci e i giornalisti Pasquale Lombardi e Fernando Fabrizio. Il racconto, la cronaca degli eventi di quei giorni di 50 anni fa attraverso immagini dell'epoca, la testimonianza di chi c'era, molto bello anche il documentario realizzato dal collega Sergio Di Vincenzo, di cui vi proponiamo uno stralcio. Il senatore Martinelli per la Commissione Finanza e Tesoro e il senatore Tanga per la Commissione Agricoltura e Foreste espressero il loro parere favorevole al disegno di legge di adeguamento delle circoscrizioni provinciali del Molise con l'istituzione della provincia di Isernia. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 3 marzo del 1970, la provincia di Isernia divenne una realtà e la città, con in testa il sindaco Santoro, festeggiò a lungo quel giorno facendolo entrare di diritto nella sua storia millenaria. E in chiusura l'aneddoto della prima e più famosa targa della nuova provincia, la celebre IS 0001, che fu assegnata a uno dei professionisti più influenti della città, uno dei fautori più attivi dell'istituzione della provincia, il compianto avvocato Mario Dinezza, che con grande orgoglio la esibì a lungo sulla sua Mini Minor Rossa. Un'auto storica per ricordare l'atmosfera di quei giorni di festa. Gli eredi dell'avvocato Dinezza hanno donato la sua Mini alla provincia. Oggi fa bella mostra di sé nell'androne dell'auditorium dell'ente di Via Berta.